buongiorno a tutte le mamme e tutte le nonne perché oggi parliamo di sale pepe kids cioè il figlio di sale pepe che a sua volta parla di bambini e di genitori e soprattutto di cibo declinato in tutti i modi giornale divertente che vuole far divertire grandi e piccini e dando il gusto del cibo ai bambini così abbiamo bambini che cucinano con i genitori piatti molto divertenti bambini che cucinano da soli e provano quindi la loro manualità e la loro abilità in cucina poi abbiamo un ricettario pensato per le mamme e per tutte le persone che devono fare ogni giorno da mangiare per i bambini e soprattutto si trovano di fronte alle difficoltà di alcuni ingredienti soprattutto le verdure ma abbiamo anche i primi abbiamo contorni abbiamo secondi abbiamo dolci poi perché no il divertimento continua continua con le feste da organizzare in casa o all'aperto dove insieme all'idea della festa diamo un sacco di ricette per invitare gli amichetti per farle direttamente questo che si avvicina alla pasta con un po di bricolage sempre legato al cibo uova da decorare in tutti i modi con glasse con carte con colori tanto per avvicinare i bambini a giocare in maniera golosa e infine le rubricche che completano il giornale che vanno dalle oggettistiche per piccoli chef ai libri ad altri tipi di giochi per arrivare poi anche a piccole idee che vengono sfornate dalla redazione e per volosità veloci o piccoli giochi naturalmente vi aspetto in edicola a comprare sale pepe chiuso grazie a tutti grazie a tutti